buon ciao a tutti bentornati in questo nuovissimo video oggi raga andremo ufficialmente a provare a fare una sfida assurda infatti andremo a far sfidare su fortnite la macchina di rocket league contro l'arma di splatoon non è di splatoon però è molto stile splatoon a proposito se volete splatoon 3 lasciate like a 30 like farò ufficialmente un video su splatoon 3 quindi ragazzi se lo volete iscrivetevi lasciate like avete fatto ok andiamo ancora lunga ok tra l'altro bellissima la nuova ambientazione veramente gg fortnite gg alla epic andiamo a creare una nuova isola creiamo una nuova isola tranquillamente un'isola vuota si dai e andiamo ad aspettare intanto ragazzi andiamo a vedere cosa c'è ragazzi un giorno proveremo anche questa mappa delle bad wars tranquilli e adesso entriamo nella nostra isola temperata let's go è nuova un'isola completamente vuota bellissima ok ragazzi andiamo intanto qui tranquillamente e come prima cosa piazziamo una bella macchina mamma mia vabbè ragazzi c'è un piccolo bug vabbè intanto costruiamoci una bella rampa mentre il bug passa perché ragazzi perché non lo sapessi un bug che a volte mi si muove tutto da solo e raga non riesco a fare niente veramente in ogni caso se volete video dove vi insegno a modificare velocemente faremo anche questo equipaggiamo e poi ovviamente equipaggiamo anche l'arma di splatton aiuto aiuto oh dov'è dov'è ed eccola qua andiamo immediatamente con x prima zl e a no ho detto x zl ok perfetto è passato qualche secondo e intanto andiamo a premere di nuovo x e proviamo quanti colpi ci serviranno per distruggere la macchina di rocket league oh mio dio ma questa macchina è resistente vediamo quanto ha oh mio dio ma tantissimo ok proviamo a guidarla un po' oh mio dio va velocissima poi è veramente tanto resistente vediamo chi è più potente tra l'altro usiamo tutti i colpi sono morto io vabbè dettagli ragazzi sono è più potente una macchina di me eccoci qui torniamo con l'arma di splatton e andiamo a sfammare vabbè vabbè non male non male quest'arma quest'arma di splatton ma anche la macchina di rocket ha resistito quindi direi un bel pareggio ma ragazzi andiamo a provare un'altra cosa vediamo che se con 60 se con 40 colpi ragazzi proviamo a distruggere la macchina di rocket league con 40 colpi di melma ma ovviamente ragazzi la macchina di rocket league ci pareggia e ragazzi vince di nuovo siamo a 5 vince ma per poco incredibile però comunque vince oh mio dio peggio di rocket league eccoci qua ragazzi in cima e proviamo e proviamo a riprovarci con una bellissima arma splatton e ho detto una bellissima arma splatton la vorrei equipaggiare e c'è vabbè ragazzi per questo video è tutto fatemi sapere se vi è piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao ciao